La condizione è drammatica nel paese, questo mi sembra il dato politico più drammatico, per cui il circuito della rappresentanza, quindi dei partiti, ha perso credibilità, il circuito della decisione è staccato, per cui noi da una parte siamo quelli che si rifugiano nel fascismo o in altre mitologie, dall'altra parte abbiamo gli uomini forti che arrivano dall'alto, come i draghi, che governano e che hanno la credibilità, hanno il prestigio e che non sono eletti, che non sono votati. Se ci pensiamo, questa è una riflessione molto drammatica che dobbiamo fare, perché, ripeto, il voto va da una parte, la decisione va da un'altra, i due circuiti sono totalmente scollegati. Dopodiché c'è un problema della destra, è ovvio che queste immagini non sono belle da vedere. C'è un punto, Stefano, che secondo me è importante, perché voglio tenere il punto su questo, se diciamo che è una frangia, qua non eravamo a Predappio, eravamo a Milano e non c'erano quattro nostalgici anziani della Repubblica di Salò, c'erano tanti giovani e non c'erano personaggi marginali di Fratelli d'Italia, c'era il capo delegazione, cioè il capo di Fratelli d'Italia in Europa, che domani la prossima volta sarà in Europa a dover spiegare questo video ai colleghi al Parlamento europeo. Cioè, che questo sia un problema per Fratelli d'Italia, che lo sia ai massimi livelli, secondo me è questo che emerge all'interno di questa inchiesta, non è niente di marginale. No, no, ma questo che si stava dicendo...